Salve a tutti, mi chiamo Matteo, ho 21 anni e due a Scandicci, mi sono diplomato all'istituto tecnico per il turismo di Firenze e ora frequento il primo anno di università alla facoltà di storia. Fin da piccolo ho sempre avuto una passione per il cinema, questo grazie a miei genitori che hanno condiviso con me questa passione. Da sempre sono un grande frequentatore delle sali cinematografiche e per questo motivo mi piacerebbe lavorare con voi. Grazie mille per la vostra attenzione e arrivederci.